Buongiorno e ben ritrovati a tutti carissimi telespettatori di Fano TV. Questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali che come sempre comincia con il santo del giorno. Il santo di oggi è San Bernardo di Chiaravalle. Il sole è sorto alle 6.17 e tramonterà alle 20.06. Questa è la fotografia che ci mostra già una giornata così così, ancora residui dalla giornata temporale di ieri. Oggi avremo una giornata ancora un po' perturbata. 18,8 gradi, fa freschino questa mattina se state per uscire alle 7.30 del mattino. Allora giovedì 20 agosto avremo un cielo nuvoloso con maggiori addensamenti lungo la costa durante la mattinata. Poi il cielo si schiarirà nel corso del pomeriggio. Infatti nella prima parte della giornata avremo deboli precipitazioni sparse a carattere di rovescio di temporale lungo la costa. I fenomeni sono comunque in esaurimento e lo saranno sempre di più nel pomeriggio. Le temperature minime sono in diminuzione, quelle massime stazionari oppure aumenteranno anche seppur in maniera lieve. I venti sono settentrionali di brezza tesa con rinforzi fino a moderati lungo la costa. Il mare sarà mosso molto mosso nella prima parte della giornata con il moto ondoso in attenuazione invece nel pomeriggio. Per la giornata di domani, venerdì 21 agosto, ancora instabilità in particolare nella parte centro-meridionale della regione Marche. Avremo cielo poco o irregolarmente nuvoloso per addensamenti cumuliformi in particolare sulle zone peniniche durante le ore centrali della giornata. Brevi rovesci sparsi o isolati temporali più probabili sul settore interno e meridionale della regione. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti di brezza leggera o tesa nord-orientali, il mare sarà poco mosso. Per la giornata di sabato 22 agosto il tempo migliora, vedete, con cielo sereno poco nuvoloso, temperature in aumento, i venti di brezza leggera settentrionali, il mare sarà poco mosso. Per quanto riguarda i prossimi giorni, la rimonta dell'alta pressione determinerà un generale miglioramento per la prossima settimana con giornate prevalentemente di sole, intervallate solo da temporanei fenomeni di instabilità, soprattutto sui rilievi. Allora, cominciamo a leggere i giornali. Dal resto del Carlino, il Carlino, la pagina di Fano e Valle del Cesano. Un overdose manda una donna in ospedale, adesso lotta tra la vita e la morte. Si tratta di una donna di 32 anni di Lucrezia, che lotta tra la vita e la morte nel reparto di reanimazione dell'ospedale di Fano Santa Croce. È in coma da ieri mattina, è stato il finanzato a chiamare il 118 quando si è accorto che era andata in overdose da eroina. Poi, per quanto abbia tentato di svegliarla, la compagna però non rispondeva. Sono tutti e due nulla facenti, sono già note le forze dell'ordine, insomma una vita un po' così travagliata. Sempre da cartoceto, servizi mantenuti nonostante i tagli, parla il sindaco Enrico Rossi, sull'approvazione del bilancio, meno incassi, un salasso di 400 mila euro tra governo e i Muncalo, abbiamo abbassato comunque l'Atari. Poi torna il pellegrinaggio nella notte tra domani e sabato, si rinnova questo appuntamento annuale con il pellegrinaggio dal Santuario Mariano di Cartoceto a quello di San Giuseppe in Spicello, di San Giorgio di Pesaro, che è giunto alla 23esima edizione. I fedeli si metteranno in marcia alle 2 di notte e arriveranno alla meta alle 6.30 del mattino dopo aver attraversato diversi paesi e diverse colline. Beltrami, questo signore che vedete qua nella fotografia, dice salviamo gli olivi, domani una passeggiata tra il Frantoio e il paese di Cartoceto. Dalla pagina di Fano, azienda fanese fallita, rinvia a giudizio il caso della Sogefal, due accusati di bancarotta, gli amministratori di fatto davanti al GUP, le motivazioni avrebbero occultato macchine, sottratto denaro e fatto spese con i soldi della società. Fermo Pesca, sbagliato, fate decidere a chi lavora. Giardini, attacca. Sotto, muore in casa a 43 anni, nessuno se ne accorge, è trovato senza vita dopo almeno una decina di giorni. La vittima è Saturno Iori, morto per cause naturali, aveva 43 anni, abitava in via Coronelli a Lido di Fano. Appartamenti per anziani, 7 su 10 sono sfitti, residenza protetta, Don Paolo Tonucci, se non si trova il modo di occuparli per il loro fine si cambi, destinazione d'uso. Il foglia colorato di verde, ultima novità dell'estate, esplosione di alghe e bassi livelli di ossigeno, colpa di alte temperature e nutrienti, fenomeno presente anche negli invasi del metauro. Andiamo ancora, e restiamo sul resto del Carlino, proposte, qui la cronaca da Pesaro, violenze sui minori, proposte insistenti e tanti sms, il PM disegna un orco generoso. Non tutti i 16 ragazzi hanno ceduto alle offerte di questo 37enne celibe operaio di Montellabate, offerte in cambio di sesso. Ovviamente i ragazzi venivano agganciati anche attraverso la rete, attraverso Facebook, a loro prometteva dei soldi, blandiva, trascinava e poi coinvolgeva. I fatti risalgono al 2012, la procura di Ancona chiude l'inchiesta tre anni dopo, già nel 2013 i carabinieri avevano chiuso il fascicolo. Apriamo adesso invece il Corriere Adriatico da Senigallia, investe una 25enne, poi scappa, ma si costituisce nella notte. La giovane andava al cinema con il fidanzato, centrata sulle strisce pedonali, da un'auto che poi è fuggita. Il pirata si è presentato al comando di vigili nella notte. Sempre da Senigallia, massaggiatrici in lingerie e disposte a tutto, non solo prostituzione in strada, cresce anche quella in casa. Pubblicati annunci hard sui siti online. In particolare sono sotto la lente di ingrandimento alcune zone, Lungomare Mameli a Senigallia e la Statale, che detengono il primato per le abitazioni affittate alle ragazze squillo. Da Pesaro invece sulla spiaggia licenze per 60 ristoranti. Il dato emerso dall'Assemblea di Commercio e Confesercenti, dura protesta degli operatori. Varotti, il servizio deve chiudere alle 8 di sera. Alle 20, come lo stabilimento, Marcucci, Pinoli. Sono tavole calde. La pagina di Fossombrone del Corriere, bomba artificieri in azione. La bonifica stamane nei pressi dello svincolo est della superstrada. Si tratta di un ordigno di un aereo sganciato dagli alleati per distruggere il ponte della ferrovia. Dalla pagina di Fano invece del Corriere, Carnevale, il sindaco mediatore. Tre obiettivi dopo la rottura tra l'ente carnevalesca e l'associazione dei carristi. Allegorie nuove, rilancio ed evento estivo. Per i maestri carristi l'impassa sul Carnevale si supera soltanto se prima di discutere sul bando dei bozzetti, quindi dei nuovi carri, che tra l'altro è andato a vuoto. Cioè nessuno dei carristi ha presentato una situazione particolare. Nessuno dei carristi ha presentato i bozzetti, i disegni per dire questo è il carro che vorrò realizzare per l'edizione del 2016. Quindi non essendoci i disegni, non essendoci i bozzetti, la carnevalesca non può in questo momento fare altro che prendere atto di questa situazione. Certo, è una rottura, una rottura grossa. Speriamo che sia sanabile e speriamo che l'intervento del sindaco possa mettere mano e trovare una via d'uscita a questo impasse, perché non è una cosa buona, non è una cosa bella. Quindi va tenuta sotto controllo e speriamo che vada bene. A Fano, 400 camere abusive, la denuncia degli albergatori per gli appartamenti turistici. Avanti così e noi dovremo chiudere. La rivoluzione luminosa da Mondolfo, il Comune incarica un'azienda per avere più efficienza, sicurezza e risparmio. Ancora dai giornali, chiudiamo con il messaggero, anche qui la pagina di Pesaro in particolare si sofferma su questa riunione, su questo incontro, l'ultimatum dei ristoratori, Commercio e Confesercenti, l'amministrazione comunale ci convoca il più presto, altrimenti a settembre sarà protesta. Se davvero si tratta di un servizio complementare agli stabilimenti, perché non chiuderlo entro le 20 o comunque le 21 e poi il messaggero riporta alcune affermazioni, alcuni discorsi fatti ad alta voce nel corso di questa assemblea. Il Conte Marcucci Pinoli dice questi chioschi non possono prendere surgelati, metterli sul forno e poi farsi chiamare ristoranti. Oppure sotto Sauro Lani che dice ci sono locali che cucinano in spazi ristrettissimi e ospitano i clienti, spesso su tavolini improvvisati o addirittura balle di fieno. In una cucina di 10 metri, pasti per 200 persone, di Remigio non ce l'abbiamo con i bagnini, ma bisogna regolamentare la situazione. Sotto invece la scuola alberghiera, l'Istituto Alberghiero, niente aule all'ex Bramante né all'ex Job, Cecconi che è andata a fare un sopralluogo, deputato dei Cinque Stelle, le colpe, dice Cecconi del comune della provincia, i primi sopralluoghi danno esito negativo, intanto i Cinque Stelle incontrano il preside. Poi l'intervista, l'intervista come sempre al veleno di Giovannelli del Partito Democratico, Giovannelli dice oggi nel PD non si discute più, ci si pugnala soltanto alle spalle, l'ex sindaco e deputato adesso ha un nuovo incarico, curerà i rapporti tra le sezioni del partito e il quotidiano, l'unità. Il Partito Democratico nelle Marche attualmente non esiste, per quanto riguarda Comi, invece il segretario con il codice di guerra sarebbe già stato fucilato, ha detto Giovannelli. Poi Equitalia, Equitalia che continua a mandare le cartelle, le cartelline, le cartellette e tutti anche per piccole cifre adesso rateizzano gli importi da pagare. In aumento i pesaresi chiamati a saldare esposizioni debitorie di ogni tipo, dall'IRPE fa le tasse comunali e cartelle esattoriali, oltre, pensate, 17 mila in provincia di Pesaro chiedono di pagare a rate 5 mila in più rispetto a quanto succedeva due anni fa. Poi, l'ultima pagina, quella di Fano del messaggero, il Palazzetto dello Sport, il Palazzetto dello Sport chiude per lavori, sfrattate le società sportive, dal primo ottobre infatti la struttura sarà inagibile per consentire la bonifica dell'amianto, attività da spostare dunque o riprogrammare facendo così saltare anche alcune manifestazioni. L'assessore dello Sport per il decreto enti locali il Comune deve finire l'intervento entro l'anno. L'assessore, appunto, del Bianco dice non potevamo perdere l'occasione e le fa eco, insomma, in qualche modo Paoloni, presidente del Comitato del Centro Sportivo Italiano che dice con la salute non si scherza è un sacrificio che va fatto. Cioè, è bene che l'amianto che c'è al Palazzetto dello Sport venga tolto, smantellato al più presto, quindi se dobbiamo stare chiusi per un po' di tempo lo faremo in qualche modo ben volentieri perché con la salute non si scherza. Super Enalotto Fortunato gioca 2 euro e ne vince 50 mila. Ha fruttato appunto 50 mila euro il tagliando giocato e venduto l'altro giorno in una tabaccheria a Marotta in strada nazionale Adriatica Sud. Vigili del Fuoco Aguzzi che è l'ex sindaco di Fano spinge per la nuova sede e in qualche modo si chiede che fine ha fatto il progetto per la costruzione di questa appunto nuova sede per i Vigili del Fuoco disabile trovato morto in casa il decesso risale ad una settimana fa e poi sotto cantiere all'asilo lotta contro il tempo lavori urgenti alla materna per riparare una grossa crepa e non fare slittare l'anno scolastico una grossa crepa è comparsa infatti alcuni giorni fa sulla facciata della materna Vago Colle sopra la frazione di Tombaccia l'ultima notizia dal messaggero la prendiamo qua sempre dalla pagina di Fano è un appuntamento al quale vi invitiamo questa sera una serata che miscela danza musica dal vivo e poesia alle 21.15 alla Corte Sant'Arcangelo l'iniziativa si chiama Parole Sospese ed è una idea da un'idea del regista e attore Marco Florio sui versi di Edoardo Frustaci il ricavato il ricavato di questa serata andrà alla Caritas Diocesana ed è tutto grazie per aver seguito Occhio ai giornali ci rivediamo domani mattina alle 7.30 stasera invece alle 20.30 Occhio alla notizia il telegiornale arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.